Qual è il percorso ideale del paziente stomizzato per una corretta presa in carico territoriale ed un'assistenza personalizzata prima e dopo l'intervento chirurgico? Ne parliamo ai margini della conferenza stampa sulle stomie promossa a Roma da Combatec con Assunta Scrocca, vicepresidente IOS. Per migliorare la qualità di vita dei pazienti con stomie, quanto è importante il ruolo dello stomaterapista anche per risolvere problematiche proctologiche o di disfunzione del pavimento pelvico? Lo stomaterapista è un infermiere esperto che ha concluso un percorso di master universitario e ha un ruolo fondamentale per la riabilitazione e per reinserire queste persone all'interno della società. Quindi non parliamo solo di pazienti stomizzati ma parliamo anche di pazienti con incontinenze quindi abbiamo l'incontinenza del comparto anteriore o del comparto posteriore e pertanto è necessario poter lavorare su questi pazienti e far sì che possano reinserirsi nella società quanto prima. Come le persone portatrici di istomia imparano a prendere confidenza con i dispositivi che gli sono necessari come il dispositivo di raccolta? Le persone stomizzate o comunque insomma persone che vengono sottoposte ad intervento chirurgico con confezionamento di istomia devono necessariamente seguire un percorso anche di educazione oltre che di informazione e in questo percorso al paziente viene illustrato attraverso Deplian, attraverso video e anche attraverso proprio la formazione diretta come gestire la propria stomia, come evitare eventuali complicanze e come riconoscere eventuali alert da segnalare allo stomaterapista. Quindi il percorso viene fatto durante tutta la fase del ricovero e continua anche alla dimissione. Quanto sono importanti la nutrizione e l'attività fisica nel percorso riabilitativo? Il paziente che viene sottoposto ad intervento chirurgico è un paziente con un sito chirurgico sull'addome pertanto è fondamentale iniziare la sua riabilitazione fisica già prima dell'intervento con dei semplici esercizi che possono essere utili a rinforzare la parte muscolare o degli esercizi che possano poi tornarli utili nel post-operatorio e quindi evitare un'implicazione dell'addome nei movimenti e quindi una criticità che si può poi manifestare successivamente sulla ferita chirurgica. Quindi la riabilitazione fisica va fatta, va fatta ancora prima dell'intervento, va mantenuta durante l'intervento e continuata in una fase successiva. Ma ha una nutrizione speciale il paziente? Assolutamente sì, sono persone che hanno necessità, a seconda del tipo di istomia che viene confezionata, hanno necessità di un percorso specifico nutrizionale con dei professionisti che proprio si occupano anche di nutrizione proprio per evitare la desidratazione o la malnutrizione per cui assolutamente hanno necessità all'interno proprio del percorso generale della figura del nutrizionista. Qual è la problematica che riscontrate maggiormente nel trattare questi pazienti? Sicuramente la problematica maggiore è legata all'accessibilità dei pazienti che i pazienti ci manifestano all'interno delle strutture. non tutte le strutture hanno un ambulatorio dedicato o hanno del personale dedicato alla gestione e alla formazione di questi pazienti. Quindi in questo momento la criticità maggiore è legata proprio alla poca accessibilità del paziente alle cure.